mani salde sul volante e chiede sull'acceleratore se siete pronti cominciamo facciamolo torna bill carlton e il suo team anche se faccio questo lavoro da sempre non smetto mai di imparare ogni nuovo progetto rappresenta una nuova sfida col suo extensive metalworks dove il metallo si anima e prende vita il risultato è davvero incredibile mi piace tantissimo arriva la nuova stagione di texas metal ogni giovedì alle 22 15 su motor trend canale 59 in estate cosa induce essere ragionevole